Fino a qualche anno fa il bilancio delle aziende si concentrava essenzialmente su dati economici. Con l'introduzione da parte dell'Europa del progetto di neutralità energetica entro il 2050 anche i bilanci delle aziende si sono adeguati e sono diventati sostenibili nel senso che tengono conto di dati economici, sociali e ambientali. Quello del 2022 del comparto chimico toscano che comprende 14 aziende con un numero di addetti doppio rispetto al settore manifatturiero e quasi tutti con contratti a tempo indeterminato presenta uno stato di salute migliore di quello di altre regioni anche nel settore energetico. La chimica è infatti uno dei settori più energivori ma nonostante la crisi il comparto ha retto. Il 31,5 per cento del fabbisogno energetico è coperto da energia autoprodotta e le materie prime utilizzate sono calate del 10,9 per cento rispetto al 2021. E infatti soprattutto sul riciclo con il 72 per cento dei rifiuti riciclati che il comparto chimico toscano supera di molto le aziende aderenti al rapporto Responsible Care 2022 che si attesta al 29 per cento. Anche Arpat, azienda ambientale toscana, ammette che nella nostra regione la chimica ha fatto passi da gigante dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Del resto, ci spiegano, era uno dei comparti storicamente più nocivi per l'ambiente ed è stato tra i primi che si sono dovuti adeguare ai nuovi standard. L'hanno fatto volontariamente, quindi le imprese investono tanto perché si capisce subito la chimica, fa impressione alla collettività, quindi questo significa che volontariamente le imprese mostrano quello che hanno fatto principalmente per la collettività che le circonda, vogliono lasciare un ambiente migliore di quello che hanno trovato.